Non ti aspetti che la tua famiglia capisca quello che fai. Speri solo che lo accetti. Sono felice per te, sarai un bravo padre. E quando torni a casa cerchi di ricominciare da dove hai lasciato. 3 2 1 Libero! Obiettivo al sicuro! Dobbiamo liberare un ostaggio. Procedete verso l'obiettivo. Recuperatelo e recatevi al punto stabilito. Lo vedo. Ostaggio in custodia! La portiamo a casa. A chi è stato in missione? A noi e a tutti quelli come noi. Che sono pochi. Recezione immagine Ragan. Nemico in avvicinamento da Nord. Questa storia è più grande di quanto pensassimo. Colpiranno in casa nostra. Forza ragazzi, in marcia! Forza ragazzi, in marcia! Procedere verso l'obiettivo Alba. Uomini in posizione. Stai attento. Non preoccuparti. Non preoccuparti. Devi fermare tutto. Non posso. Via! Vivi seguendo i tuoi ideali. È questo che ti riporta a casa. E cerchi sempre... Di tornare a casa. Di tornare a casa.